Ciao giovani bentornati sul canale, siamo ancora sulla Battle Royale, la Firestorm di Battlefield V con questo bel team colorato e randomico, partiamo! C'è gente! La Panzerfaust cure, ce l'abbiamo, stiamo già ad otto, c'è un'altra casetta qua, dai sali! Ok, siamo armati di lanciarazzi fino alla merda, ma buongiorno! Perchè già vi vuole delle spostare? Oh un attimo caspita, pistola, ottimo revolver! Ok, andiamo! E il blu lo lasciate a piedi? Siete pazzi? Ma dai, ma siete idioti! M'hanno gettato in acqua! Bah! Ah! Oh! Non c'è nemmeno mitragliottici? Mettere, ciullo io! No! Me la fregate, me la fregate! Ok! A sto punto prendo il fucile da cecchino! Perchè ho più colpi e perchè puntiamo sulla mitragliatrice, ottimo! Se ne trovo un altro qua però sarebbe... Oh! Grandissima la corazza! Oh, chi è che spara? Oh cazzo, è arrivata! Andiamocene, andiamocene! Non siamo nemmeno troppo vicini! Bisogna muoversi! Oh! 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 Ok, mettiamoci tra questi pini No ragazzo 10 pro a tirarti sopra e non ti mollo Ui Non morirai oggi fratello Via Dove andate con sta fretta? Mannaggia Cazzo Guarda quando andiamo a finire qua No, solo 15? Ok, 55, molto meglio Però mi sembrano sempre troppo poche Che cazzo è successo qua? Ma puttana vacca Dobbiamo pure indietre già Via, 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 via Bene Sono morto Dai che ce la fate ragazzi Dai che ce la fate Grandissimi Cerco di coprirli, devo coprirli io Vieni via cazzo Vieni via Ma dove ho? Ottimo Eh, mi serve le tue cosette Andiamo, 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 andiamo 11 in vita Ho bisogno di un'altra piastra Almeno un'altra piastra Forse è qui, forse è qui Ma non sei te sto qua, su Peggio di quello di prima Oh, cos'è sta laggata brutta? No, 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 no Ok Va benissimo 8 in vita Siamo in 3 Dai raga Dai raga Potrebbero essere qua Dovevo lasciarmi con l'altra mitragliatrice Questa non si tiene Cioè nonostante sia viola Gli STG non è che mi dispiace Allora druppiamo questi ai compagni Magari li fanno comodo Un sacco di colpi di mitragliatrice Ma Con l'ostottica non so se sia un bene Qua adesso ci ristringiamo molto Sul campo di fuoco Bello il macete Siamo in un buco Devo spostarmi dai miei compagni Ecco, questa la preferisco Artiglieria Massacrate vebure Qua 8 in vita Noi siamo 4 Noi siamo 3 Potrebbe esserci uno da solo Vicini ragazzi Vicini Dove vai tu da solo Cioè guarda Qual è il punto Sono là Sono là Dai dai siamo dentro Io devo scambiare Queste Con queste Io devo scambiare questa Con questa E mettermela Ok Adesso rimettiamo queste Perfetto Occhio Occhio Vittoria Grandiosi Ce l'abbiamo fatta Bravi ragazzi Bene è così È stato un bel Collaborare Dai Non posso lamentarmi E Che cos'è successo Ci mancava Il tipo nel mezzo Vabbè Siamo portati a casa Questa vittoria Altra vittoria La collaborazione È tutto Soprattutto in Gioco di squadra Ragazzi Ci vediamo Nel prossimo video A presto Ciao Ciao